Continua la scia di morte lasciata dal Covid in Irpinia. Nelle aree Covid dell'azienda Moscati sono infatti decedute quattro persone. Un paziente di 66 anni di Serino, ricoverato dal 30 marzo, è deceduto ieri sera in unità operativa di geriatria. La notte scorsa nella terapia intensiva al Covid Hospital è deceduta anche una paziente di 63 anni di Solofra, ricoverata dal 14 marzo e in terapia intensiva dal 19. Questa mattina in unità operativa di malattie infettive è deceduta una 94enne di San Potito Ultra, ricoverata dal 26 marzo. In pronto soccorso, infine, è deceduto un paziente di 90 anni di Serino, trasportato alla città ospedaliera dagli operatori del 118 in gravissime condizioni questa mattina. Purtroppo anche la lista dei decessi nel Serinese si allunga. Nell'ultima settimana infatti sono sei le persone che hanno perso la vita per il Covid. Intanto, l'ultimo bollettino dell'Asla ha restituito la positività di 88 persone su 1.009 tamponi effettuati, 11 residenti del comune di Avellino, 8 residenti del comune di Atripalda e Monteforte Irpino, altri 5 a Serino, dove la situazione, come detto, è molto preoccupante.